Con Windows 7 e Windows Live puoi creare, connettere e condividere in un'unica schermata. Windows Live Mesh sincronizza automaticamente e di continuo i tuoi PC. Puoi accedere al PC dell'ufficio, da casa tua o viceversa, proprio come se fossi davanti al computer. Con Windows Live SkyDrive archivi migliaia di foto e altri documenti online gratuitamente. Sono nella cloud e quindi puoi accedervi in ogni momento e praticamente da qualsiasi posizione. Stanco di stare dietro a tutti i social networks? Con Windows Live Messenger potrai gestirli da un'unica schermata. Puoi persino effettuare nitide videochiamate in HD e condividere foto e video durante la conversazione. Crea, connetti e condividi da un'unica schermata. Windows 7 e Windows Live